salve è un piacere sono fabio faustini perché sono qui perché vi voglio presentare il mio corso anzi il nostro corso il 12 ottobre a modena presso il centro congressi della gd avremo modo di affrontare una tematica molto interessante le riabilitazioni non graft che prevedono l'utilizzo di impianti transinusali e pterigoidei un'ottima soluzione per ovviare alle severe atrofie dunque cosa posso dirvi di più non potete mancare vi aspetto grazie